Catechesi 121 Vangelo, Marco 2 23, 28 Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Ciò che differenziava Israele dai popoli vicini era l'osservanza del riposo nel giorno di sabato, questo rispetto faceva considerare ai romani pigri gli ebrei, e proprio gli ebrei che osservavano il riposo del sabato, facevano lavorare i loro schiavi e il sabato aveva una grande importanza per gli ebrei, ricordava ad essi il primato di Dio e la loro libertà ottenuta da una condizione di schiavi era il giorno del ricordo della loro dignitaria acquistata. In questo giorno bisognava fermare tutto e ricordare i favori ricevuti da Dio. La cosa curiosa è la loro difesa del precetto del sabato, se ne è propriano talmente da trasformarlo con tante norme e prescrizioni inventate dagli uomini e accostate al sabato, come i passi che bisognava fare, quali azioni compiere, che cibo mangiare, ecc. In questo modo erano ritornati schiavi nuovamente anche se di prescrizione inventate da loro. Il rispetto della loro legge era diventato più importante di Dio. Arrivavano a giudicare la devozione delle persone considerando l'osservanza esteriore, con questo parametro decretavano chi erano i buoni e i cattivi. L'azione compiuta dai discepoli di Gesù nel giorno di sabato per gli ebrei è grave, mostrano però i limiti delle loro conoscenze e il Signore spiega che già Davide aveva mangiato il pane quando non poteva e lo fece per necessità. Lo spiega con l'equilibrio dell'uomo libero, non solo perché è figlio di Dio. Gesù non si preoccupa dell'accusa dei farisei perché ingenua è falsa, risponde con la parola di Dio e li ziptisce. Oggi l'Evangelo ci dice che se il sabato è fatto per l'uomo, non si può giustificare l'acidea spirituale o pegrezia di quanti anche di sabato non pregano o compiono azioni gravi. Ci dice che anche di sabato il cristiano ha l'obbligo di pensare alla sua crescita spirituale, perché esiste la necessità della purificazione interiore. Questa purificazione o redenzione intesa come liberazione dagli atteggiamenti esteriori ipocriti, facilita la comunione con Gesù. Non si è più schiavi dei propri impulsi naturali quando si ascolta la parola di Dio e si attuano gli insegnamenti di Gesù. Ma è necessario compiere ogni opera con amore, avvertendo nel cuore la gioia di osservare quanto ci ha chiesto il Signore. Nella Bibbia non troviamo inviti a considerarci immuni dall'osservanza delle leggi, dobbiamo però capire il significato della legge morale che Dio ha scritto nel nostro cuore e che ha anche resa manifesta nei precetti divini. Ognuno con onestà può capire la legge del bene e del male, ma non può guidare la propria coscienza senza il confronto con la parola di Dio. Nessuno può autossolversi o giustificare per i propri interessi le azioni sbagliate che compie. Chi rispetta i precetti divini si eleva ad una dignità fuori dal comune, conferma la sua esistenza di creatura d'immagine di Dio. Noi osserviamo la domenica come giorno di precetto, perché così ha stabilito il Signore. La domenica per il cristiano è il giorno di riposo fisico per impegnarsi di più nello spirito. La partecipazione alla Santa Messa è il ringraziamento principale per quanto si riceve da Dio, ci sono tante altre cose da compiere per migliorare e fortificare la propria persona. La Santa Messa non deve essere considerata come un obbligo per evitare castighi, e invece un incontro gioioso e amorevole con il Creatore che ci aspetta in Chiesa e vuole sentire il nostro amore per Lui, vuole che lo consideriamo padre per tutto quello che nessun padre terreno ha mai potuto donarci. La nostra fede non è fondata sull'osservanza esteriore, è un motore interiore che deve spingerci sempre al cambiamento. Non dobbiamo ripetere i giudizi dei farisei che valutavano secondo ciò che appariva all'esterno, come se la devozione fosse impressa sulla fronte. Tantissimi buoni e autentici cristiani vivono la loro profonda spiritualità conducendo esteriormente una vita ordinaria. Compiono lavori come tanti altri ma credono nei valori, hanno una morale, un padre in cielo che vigila su essi, una madre macolata piena di bontà che li aiuta in ogni necessità. Sembrano come gli altri ma hanno una spiritualità portatrice di pace e di gioia per loro e quanti vivono con loro. Buona preghiera a tutti! Vangelo, Marco 3, 1, 6 È lecito in giorno di sabato salvare una vita o ucciderla? Oggi per me è un giorno molto importante, prima di tutto perché è l'anniversario di un'apparizione della Madonna dei poveri e poi perché lo scorso anno sono stato guarito da una brutta malattia. Ringrazio la Madre Celeste per avermi concesso questa grande grazia di cui io sono il primo a dire che non la meritavo, ma lei che è una buonissima e bravissima mamma, ha voluto fare questo grandissimo dono a me e a tutta l'associazione. Adesso passiamo alla Catechesi. La liturgia ci presenta un altro episodio riguardante il sabato. Ci vuole poco per fare scattare la reazione dei cattivi, contro Gesù si coalizzarono farisei ed erodiani, intenti più a cercare pretesti per accusarlo che per capire le sue parole e le azioni miracolose. L'atteggiamento di queste persone è crudele, non capiscono che sono esse a cadere nel peccato quando si riuniscono per uccidere Gesù, infrangono il comandamento non uccidere per sfogare tutto il male che portano dentro. Il male non si sviluppa all'improvviso, però si trasforma e si adatta alle varie circostanze, come l'acqua. L'acqua si adatta ai recipienti che la contengono, il male si stabilizza dove trova chi lo contiene e lo lascia sviluppare. Se il male è presente in ogni uomo a causa del peccato originale, fin dall'infanzia però ognuno ha la possibilità di vincerlo, aiutato dalla formazione religiosa impartita dai genitori e poi dalla parrocchia. Queste due colonne sono indispensabili per la crescita sana di un bambino, il quale ha assolutamente bisogno delle figure del padre e della madre per non far sviluppare il male. Da che mondo e mondo si è sempre parlato di matrimonio tra uomo e donna, la famiglia non può assolutamente sussistere senza le due parti integranti a che si completano. Lasciano di stucco le richieste di questi giorni riguardo le unioni civili, il matrimonio omosessuale, l'adozione dei bambini e la maternità surrogata. I matrimoni omosessuali tra uomini non è forse il disprezzo della donna? Cosa dicono le femministe? E il matrimonio tra donne non è il disprezzo degli uomini? Cosa dicono i maschilisti? Ogni loro affermazione per i cristiani sarà sempre opposta anche al buon senso. La maternità surrogata permette di diventare genitore anche a chi non riesce a portare a termine una gravidanza, grazie ad una donna che accetta di affrontare gestazione e parto per altri. Tutte le forme di maternità surrogata rappresentano un grave attentato alla dignità umana. Ne ha parlato anche il Consiglio delle Conferenze Episcopali nell'Unione Europea per la Bioetica. Ha sottolineato come le donne subiscano questo tipo di sfruttamento a causa della povertà e si rileva che anche il bambino in queste pratiche altro non è che un oggetto. Nel documento della Commissione di Studio che fa riferimento, appunto, alle conferenze episcopali dell'Unione Europea si condanna anche l'espressione utero in affitto, utilizzata comunemente per questa pratica, perché non tiene conto che la gestazione non riguarda solo un organo ma l'intera persona. Si tratta di un business inaccettabile che sfrutta le donne più vulnerabili e più povere. Le due colonne della formazione religiosa dei bambini oggi scricchiolano, famiglia e parrocchia spesso non seguono più la morale cattolica, e i cedimenti arrivano innanzitutto dal conformismo, dalla paura di manifestare che le richieste degli atei parlamentari e di quanti di loro non seguono la morale e sono privi dei valori cristiani, sono in realtà richieste immorali. Questo ci insegna la sana dottrina della Chiesa. Non trovo un altro termine di morale, per indicare questa iniziativa politica che tiene banco da molto tempo e che non trova nella Chiesa una risposta forte, esauriente e determinata. Il silenzio che si fa sentire dalla Chiesa è quasi un segnale di resa o di accettazione alle proposte inique e devastanti per la stessa società. A noi laici bisogna richiedere un impegno spirituale più coinvolgente, siamo noi soprattutto a sostenere con grande spirito di preghiera e di rinuncia a qualcosa come forma di penitenza, la vittoria della Madonna su questa proposta di legge. Anche se adesso appare scontata la vittoria dei sì, tutto può accadere in questi pochi giorni e questo dipenderà dal santo rosario offerto alla Madonna. Impegniamoci di più nella preghiera e rivolgiamoci alla Madre di Dio con parole semplici e piene di fiducia. Tutto tu puoi. Tocca ai cuori dei parlamentari che hanno ancora un brandello di fede. I parlamentari cattolici praticanti che voteranno no, sono invece meno di cento, gli altri voti deve procurargli la Madonna e questa legge è impossibile sconfiggerla ma occorre moltissima preghiera, è una sfida per tutti, noi le chiederemo con grande fede. Vangelo, Matteo 17 22, 27 Lo uccideranno, ma risorgerà. I figli sono liberi dal tributo. Non potevano compiere assolutamente nulla gli ebrei senza la consegna nelle loro mani di Gesù. Questo particolare di non poco conto sfugge a molti miscredenti e non per ultimi, anche a cattolici di larghe vedute. Diciamo di vedute al di fuori del Vangelo. I miscredenti sono gli eretici di questi tempi, non accettano il Vangelo come la Chiesa lo ha trasmesso in questi due millenni e si trovano anche all'interno della Chiesa. Il profondo cambiamento o metamorfosi interiore avviene in quei cristiani che non pregano più o che diventano modernisti per convenienze personali compreso tanti prelati. Giuda divenne il traditore ma era stato uno degli apostoli più intimi di Gesù. Sprecò tutta la grazia ricevuta e rifiutò il progetto che Dio aveva su di lui. Un tradimento eccellente, mai superato da altri e questo ci dice che nessuno deve rimanere sicuro della sua fede. Nessuno è sicuro della sua salvezza eterna ed è la fede viva a far permanere il desiderio del Paradiso. Bisogna coltivarla e curarla, con i sacramenti, la preghiera, i comandamenti, la pratica delle virtù, le giornaliere letture e meditazioni spirituali. Noi stiamo compiendo insieme un cammino intenso e fedele alla sana tradizione della Chiesa, abbiamo la garanzia della fede che viviamo, dal Magistero Autentico della Chiesa, e si trova nel Catechismo della Chiesa Cattolica del 1992 tutto il deposito della fede autentica. Niente e nessuno potrà mai cambiarlo, infatti la modifica di un solo insegnamento fa crollare tutto l'impianto spirituale negli eretici. Gesù stesso afferma l'immutabilità della sua parola. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno, Matteo 24,35. Le parole di Gesù rappresentano il suo insegnamento, che rimane immutabile in eterno. Nel corso dei secoli ci sono stati vari scompigli nella Chiesa con azioni portate da uomini inquieti, decisi a modificare il Vangelo storico. Sono avvenimenti che si ripetono periodicamente, sono in dubbi corsi e ricorsi storici, soprattutto per quanto riguarda Gesù Cristo, la sua Chiesa, il suo Vangelo. La crisi all'interno della Chiesa oggi è al limite del collasso, e necessitano veri apostoli desiderosi di diffondere il Vangelo per la salvezza delle anime. Le apparizioni autentiche della Madonna hanno risvegliato la vita interiore in centinaia di milioni di persone, ma ancora c'è molto da fare. La Madonna vuole formare tantissimi veri apostoli del Vangelo per far conoscere Gesù Cristo. La figura di San Domenico è certamente una delle migliori in questi tempi di ersie dilaganti e di attacchi all'unica Chiesa. Oltre a fondare l'ordine dei frati predicatori o domenicani, nel 1200 è stato il più grande missionario nella diffusione del Santo Rosario. Padre Domenico era spagnolo ma Dio lo volle grande predicatore nella Francia meridionale dove trionfava l'eresia dei Catari, quindi necessitavano veri predicatori del Vangelo. All'inizio con il suo Vescovo Diego erano intenzionati a dirigersi verso l'est per predicare ai pagani, ma le loro incredibili spedizioni missionari iniziarono in Francia. Fu l'ansia apostolica di Papa Innocenzo Iii ad invitarlo a recarsi in Francia insieme al Vescovo Diego per iniziare una grande opera di evangelizzazione a difesa della sana dottrina cattolica. Dopo l'incontro a Roma, Padre Domenico e il Vescovo Diego iniziarono la predicazione nella Francia meridionale, la regione dove erano più attivi i Catari. Come disse molte volte San Domenico, fu per mezzo del Santo Rosario che otteneva grandi miracoli dalla Madonna e gli eretici si convertivano al Vangelo, rinnegando le loro teorie ingannevoli. La potenza del Santo Rosario è stata sempre invincibile dai diavoli e sono costretti a fuggire dove si recita anche una sola Ave Maria con il cuore. Buona preghiera a tutti! Vangelo, Gv 12 e 24, 26 Se il chicco di grano muore, produce molto frutto. Ognuno di noi è raffigurato come un chicco di grano ed è una immagine bellissima, il grano diventa pane, un cibo prelibato e che sostiene quanti lo mangiano. Anche chi non lo mangia può dire che il pane è un cibo prelibato. Almeno in molte regioni d'Italia, mentre ci sono luoghi dove viene mangiato un pane che sembra stoppa. Non ne vogliano i nostri parrocchiani che prediligono questo pane che si trova di più nel nord-est dell'Italia, ma in sapore non sembra pane. È come il pan carré ma ancora più compatto, un blocco monolitico che si taglia a fette e per chi non lo conosce ha dubbi anche sulla presenza del grano. Scrivo così non per criticare il pane gradito agli italiani che lo mangiano e quindi hanno tutto il mio rispetto, lo scrivo perché il pane è un cibo così prezioso, buono, fragrante e aromatico da dare un senso di pienezza anche senza mangiarlo. L'odore stesso è impagabile e si può mangiare solo il pane senza nient'altro, facilita il digiuno richiesto dalla madonna e che è sempre valido. Il mio ragionamento vuole far comprendere che un buon pane permette con facilità il digiuno a pane e acqua, ma ogni pane è buono per chi lo gradisce. Non è indispensabile il buon pane per il digiuno, ognuno deve osservare il digiuno con il pane che gradisce. Certo, se assaggiassero il pane come viene preparato tradizionalmente, con la farina impostata con il lievito e tutti i procedimenti salutari, potrebbero sicuramente benedire Dio anche per la bontà del pane. Ma ogni tipo di pane è gradito perché se ne fa l'abitudine. Per anni sono stato a Cascia in Umbria, a tavola si metteva il pane senza sale, come usanza quasi nell'intera regione. Dopo qualche giorno risultava gradevole lo stesso, anche se all'inizio si mangiava quasi per penitenza. Tutto il cibo sano è dono di Gesù e dobbiamo ringraziarlo ogni giorno anche per questo. Prima dei tre pasti, recitate sempre le preghiere, e chiedete al Signore di benedire voi il cibo che state per mangiare. Ad ogni pasto un componente diverso della famiglia può esprimere la richiesta della benedizione con parole spontanee. Ero partito con il chicco e al chicco ritorno. Anche la pasta viene preparata con la farina e la farina dal frumento, il frumento dal grano, il grano dal chicco. C'è una vera trasformazione prima del passaggio del chicco fino a diventare squisita pasta da mangiare che sfama, da vitalità. La stessa trasformazione spirituale deve avvenire in ognuno di noi. Inizialmente siamo come un chicco disfatto, all'inizio del cammino spirituale siamo pieni di miserie, con una forte inclinazione verso le debolezze e incapaci di trasformarci da soli. Dobbiamo morire a noi stessi per risorgere in Cristo. Questo è il processo che avviene nel chicco di grano. Esso si deve disfare per rinascere. Gesù ha come lasciato un testamento parlando della parabola del chicco di grano e la sintesi della sapienza divina e Gesù ricorre all'esempio del chicco di grano che si vede disfare e morire nella terra, ma non è distruzione perché nel suo disfar si produce molto frutto. La pianta produce infiorescenze in spighe composte, i frutti sono cariossidi e chicchi e, se vaccinati, producono la farina. Dal grano tenero, che risulta facilmente frantumabile, si ricava la farina, dal grano duro, che oppone una maggiore resistenza allo sbriciolamento, si ricava la semola. Il termine semola indica sempre la farina ma è per distinguerla dal grano tenero. Ogni uomo e ogni donna sono chicco di grano, seminato da Dio nei solchi della storia, della famiglia, dell'ambiente di lavoro e tutti sono chiamati a portare molto frutto. Da parte di Gesù c'è tutta la disponibilità ad aiutare per far crescere ogni piantina che siamo ognuno di noi, ma noi dobbiamo lavorare per eliminare tutta quella zizzagna che da ogni parte cerca di soffocare il chicco buono per non farlo diventare spiga, fermento, farina, pane e pasta. In questo mondo impazzito e privo di morale, dove tutta l'immoralità viene presentata come un bene e chi non trasgredisce è un cafone e rimane sempre Gesù Cristo l'unica pietra angolare a cui aggrapparci con tutte le forze, per non lasciarci tirare via dalle tempeste dei messaggi indecenti ed impuri che circolano in ogni ambiente. Occorre il coraggio e una fede forte per rifiutare certi discorsi ed evitare di dialogare con persone senza Dio ma che incontrate nell'ambiente di lavoro e in tante altre occasioni. Ricordate che siete come il chicco di grano, se viene sopraffatto dalla zizzagna della corruzione, esso perde ogni vitalità e muore definitivamente. Perdete la comunione con Gesù. Se invece come un chicco di grano liberato dalla zizzagna, crescete e diventate spiga per poi sfamare con la parola, il buon esempio, la bontà, l'amore, la verità, quanti vi ascoltano, vivrete veramente come creature rinate nello spirito di Gesù e resterete in piena comunione con Lui. Cosa può offrirci di più meraviglioso dell'amore di Gesù, il mondo con i suoi piaceri effimeri, con le mode insensate e il nulla? Vogliamo essere buona farina per effondere a chi ci incontra il buon odore di Gesù, per saziare gli affamati di Dio, donando il nostro amore. Ringrazio di cuore quanti recitano la novena San Michele Arcangelo e il Santo Rosario per me. Rivolgetevi sempre a questo straordinario principe delle milizie celesti, è potentissimo e scaccia subito i diavoli. Quando invoco San Michele sulle persone disturbate dalle negatività dei diavoli, subito stanno meglio perché i diavoli sono costretti a scappare. Pregate ogni giorno San Michele Arcangelo per me. Buona preghiera a tutti. Vangelo, Matteo 22, 1, 14 Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Ieri ho accennato alla promessa fatta da Gesù e che dobbiamo considerare assolutamente efficace e valida fino alla fine del mondo. Dio non ritira mai le promesse se l'uomo non lo obbliga a cambiarle. Tutto dipende dall'uomo, Dio infatti vuole ricolmarlo di amore e di doni ma è poi l'uomo a stabilire che tipo di relazione intrattenere con lui. L'uomo di oggi è pure circondato da molti lupi che vogliono distruggerlo senza farsene accorgere. Presentandosi come buonissimi agnelli. Nel mondo si è creato un grande gruppo esoterico che organizza di continuo progetti di morte e si oppone con presunzione a Dio. Esoterico indica un gruppo segreto, misterioso e anche oscuro in tutti i sensi. Per esempio, finanzia terroristi del mondo musulmano per destabilizzare l'umanità, rendere instabile la pace nel mondo e scuotere nelle fondamenta la religiosità dei cristiani. Sembra un racconto noir, un genere letterario molto seguito dai mass media e che indica il romanzo nero. Di nero ci sono troppe cose. I due candidati alla casa bianca, bianca di facciata mentre all'interno le trame oscurano tutto e comunque ci sono due candidati che non se le mandano a dire, ma c'è l'uomo che un giorno si e l'altro pure, accusa l'avversaria di fatti molto gravi. Ha anche detto che l'avversaria è la cofondatrice dell'ISIS mentre il presidente americano Obama è il fondatore dell'ISIS. Accusi più gravi di questa non esistono al momento, eppure la donna è rimasta in silenzio, non ha minimamente reagito. Premetto che io non voterei per nessuno dei due, se fossi americano di sicuro non andrei assolutamente a votare, mentre gli americani schierati con uno o l'altro partito daranno i loro voti secondo la loro ideologia. L'accusa formulata dal candidato repubblicano contro la democratica è esplosiva e non sembra che sia stata rivelata senza fondamento. Se andiamo a verificare, anche il presidente americano, come un suo fraterno amico, non chiama musulmani terroristi che finora hanno compiuto gravi enti di terrorismo, e questo la dice lunga sulla posizione degli Stati Uniti riguardo all'ISIS. C'è allora qualcosa di vero nell'accusa del candidato repubblicano? Davvero il presidente americano e i suoi amici hanno voluto l'ISIS? Sì, io ho sempre sostenuto nelle catechesi che l'ISIS è stata una creatura degli Stati Uniti e dei tedeschi. Oggi un quotidiano scrive che la Russia ha iniziato a bombardare l'ISIS ad ampio raggio, mentre in Libia gli Stati Uniti e l'Italia dall'inizio di agosto si stanno preoccupando di bombardare Sirte, la città roccaforte dell'ISIS, e questo è dovuto alla pericolosità dei terroristi, probabilmente sfuggiti di mano a chi li ha armati inizialmente. Ecco cosa scrive un quotidiano. Inesorabilmente le forze governative libiche fedeli al governo Serrai con il sostegno degli USA e dell'Italia stanno riconquistando la città devastata dalla violenza del Daesh. Dall'inizio del mese gli Stati Uniti hanno compiuto 41 raid aerei nell'operazione Odyssey Lightning. Finora la città è stata liberata al 70%. Improvvisamente gli americani mostrano una grande preoccupazione verso l'ISIS, ma cosa li spinge adesso a compiere questi attacchi? La Russia invece vuole liberare la Siria dai terroristi, ma qui i terroristi si stanno moltiplicando di continuo. Ieri è avvenuto questo. Caccia russi sono decollati da una base aerea in Iran per condurre raid contro i militanti dell'ISIS ad Aleppo, in Siria. Lo ha annunciato il Ministero della Difesa di Mosca, citato dall'agenzia di stampa TASS, che sottolinea come si tratti della prima volta che aerei russi usano basi in Iran. Bombardieri a lungo raggio TU-22M3 e caccia SU-34 sono decollati carichi di bombe da una base della provincia di Amadan, nella parte occidentale del paese, NDR, e hanno condotto attacchi coordinati contro obiettivi dei gruppi terroristici dell'ISIS e del fronte al-Nusra nelle province di Aleppo, dei Rez-Zoridlib, ha reso noto il Ministero della Difesa Russo. Oltre al fatto che l'Italia è in guerra in Libia e gli italiani non ne sanno nulla perché i telegiornali si dimenticano di dare la notizia e la preoccupazione reale arriva dalle strategie di questo gruppo di potere che intende decidere le sorti dell'umanità. Stabilisce cosa deve avvenire dove, le banche che devono fallire e quelli che devono salvare le nazioni. Per loro è come un gioco divertente e mai talmente pericoloso da diventare incontrollabile e scoppierà tra le loro mani. L'umanità rimane perseguitata dai giochi di potere e dai progetti di morte che perseguono questi signori. Tutto sembra essere nelle loro mani ma ignorano che Gesù Cristo è il re dell'universo e non permetterà ad essi di portare a termine i loro progetti segreti. La nostra piena fiducia nel Signore sarà ripagata abbondantemente, la nostra fede resta accesa come un'immensa luce che illumina le tenebre e per noi saranno visibili, comprensibili e saremo forti quando il terrore si diffonderà nel mondo. Ieri Gesù ci ha detto che i suoi veri seguaci riceveranno cento volte tanto in questa vita e in eredità la vita eterna. Ha anche aggiunto che molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi. Oggi il Vangelo ci ricorda che tutti siamo chiamati alla salvezza eterna ma nel mondo non tutti sono interessati perché rifiutano Dio. Nostro compito è quello di parlare di Gesù e della Madonna, dobbiamo trasmettere a tutti quelli che conosciamo la nostra gioia interiore che scaturisce dall'amore che ci dona allo Spirito Santo e per questo dobbiamo adorarlo ogni giorno con grande interesse. Anche tra i vostri familiari e tra i conoscenti ci sono quelli che rifiutano Gesù e non vogliono partecipare alla festa di nozze. C'è chi non se ne cura, chi si allontana perché interessato da altro, chi si preoccupa solo dei beni materiali che si dovranno lasciare in questo mondo. Non potranno partecipare al banchetto eterno se non avranno l'abito nuziale che indica la grazia di Dio e bisogna prima pentirsi dei peccati. È nostro compito pregare per quanti non credono e vivono intrappolati nei vizi e nelle catene sataniche. Tutto possiamo ottenere con il Santo Rosario. Buona preghiera a tutti.